Molto probabilmente anche tu pensi che in Egitto ci siano solamente tre piramidi, ma questo video ti stupirà perché ne esistono molte di più. Ciao, sono Musta e desidero farti conoscere più roba sull'antico Egitto, ma per farlo ti consiglio di iscriverti al canale, ma soprattutto di attivare le notifiche fin da subito. Quindi la domanda è, quante piramidi esistono oggi in Egitto? Tutti quanti noi sappiamo perfettamente che cosa sia una piramide egizia e di come le tre digisa rappresentano perfettamente la grandezza della civiltà egizia appunto che si è sviluppata nei secoli. Basta pensare che la grande piramide di Echeope è la prima delle sette meraviglie, ma anche l'unica ad essere arrivata oggigiorno ancora intatta. Quindi possiamo definire le piramidi, oltre ad essere delle tombe, dei simboli, una rappresentazione dell'evoluzione e della società dell'antico Egitto. Infatti non si parla solamente di evoluzione ingegneristica o degli strumenti, ma anche di evoluzione sociale, culturale, ma soprattutto religiosa. Era in tutto e per tutto un progetto nazionale che coinvolgeva tutto il popolo egizio, dove si affermava sia la grandezza, la potenza del faraone, ma anche il credo verso gli dèi. Ma quindi, quante piramidi esistono oggi in Egitto? Ovviamente per rispondere a questa domanda qualcuno doveva andare fisicamente in Egitto e mettersi a contare e classificare le piramidi che incontrava di volta in volta. E questo compito fu svolto da Carl Richard Lepsius, un archeologo prussiano considerato un pioniere dell'igiotologia moderna. Infatti, insieme ad una squadra, partì da Gisa nel 1842 per setacciare per sei mesi consecutivi i vari siti archeologici dall'Egitto del nord fino al sud. L'egittologo aveva catalogato ben 67 piramidi e 130 tombe, quindi un successo straordinario, anche se col passare del tempo molte delle piramidi sono state, diciamo, declassificate in mastab oppure altre strutture similari. Con gli anni però vennero scoperte molte altre piramidi e la più recente delle scoperte è stata nel novembre del 2008, precisamente nel sito di Saqqara, dove l'egittologo Zai Hawass la definì come la 118esima piramide trovata in Egitto. Possiamo quindi aspettarci la scoperta di altre piramidi in futuro? Beh, questo solo il tempo saprà dirci, anche perché non tutte le piramidi sono state costruite allo stesso modo o con lo stesso materiale, quindi non tutte sono arrivate intatte al giorno d'oggi. A differenza delle piramidi di Giza oppure quella a gradoni di Djoser, molte altre sono crollate, sono collassate col tempo fino ad essere ridotte oggigiorno ad una montagna di detriti. Un esempio lampante può essere la piramide di Sechemhet della terza dinastia a Saqqara, che all'apparenza può sembrare un cumulo di mattoni coperti dalla sabbia del deserto, ma in realtà nasconde un progetto ambizioso ma mai concluso. Pensate che al suo interno trovarono un sarcofago completamente in alabastro, purtroppo vuoto, e più di 20 oggetti in oro, tra cui braccialetti e perline. Un altro esempio è la piramide di Teiti della sesta dinastia a Saqqara, che a guardarla adesso sembra più che altro una piccola collina nel mezzo del nulla, quando in realtà era una grandissima piramide a parete lisce alta ben 52 metri e mezzo e all'interno di un complesso funerario molto molto articolato. E anche se all'esterno è completamente malandata, all'interno però presenta delle camere e dei corridoi veramente molto ben conservati, con delle testimonianze veramente molto molto preziose. Uno dei motivi per il quale molte delle piramidi oggigiorno sono così danneggiate è sicuramente per via delle pessime qualità dei materiali che utilizzavano, oppure la morte prematura del faraone, oppure ancora il riutilizzo dei materiali da altri monumenti, da faraoni per altri monumenti ancora. Infatti pensate che nella piramide di Amenemhat della XII dinastia trovarono gli stessi blocchi di pietra utilizzati per la costruzione della grande piramide di Cheope. Ma nonostante questo, la piramide oggi sembra nient'altro che una piccola collina di sabbia, ma in realtà in origine era alta ben 59 metri. Quindi oggi siamo a ben 118 piramidi in tutto l'Egitto, secondo l'egittologo Zai Hawass, e speriamo che questo numero in futuro, ecco, cresca continuamente, soprattutto grazie agli scavi che vengono fatti nei principali siti archeologici. In questi giorni, per esempio, il sito archeologico di Saqqara ci sta regalando veramente tantissime emozioni, e se volete sapere anche voi cosa hanno scoperto, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Se questo video ti ha aiutato a capire quante piramidi ci sono in Egitto oggi, allora assicurati di lasciare un like, e se vuoi vedere altri contenuti sull'antico Egitto e non solo, allora clicca sullo schermo in questo momento per vedere un altro video esattamente come questo. Ti aspetto! Ciao!